Prima di scendere dall'auto, la giovane autostoppista lo aveva salutato con un forte abbraccio per ringraziarlo di averle dato un passaggio, ma nella stretta in realtà gli aveva portato via tutto, soldi monili e pure l'orologio, insomma un bottino dall'ingente valore. Vittima del colpo, messo a segno con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, un professionista di San Giovanni Valdarno, che la scorsa estate, mentre percorreva le strade di Terra Nuova a Piacciolini, aveva notato una ragazza in difficoltà che faceva l'autostop. L'aveva fatta così salire sull'auto e durante il breve viaggio nulla lo aveva fatto insospettire. Al momento di far scendere la ragazza dall'auto, il caloroso saluto ed il contemporaneo furto. Lì per lì, la vittima un po' in imbarazzo per il caloroso gesto, non si era accorto di nulla, ma appena resosi conto di essere caduto in una trappola, si era rivolto ai carabinieri di Terra Nuova, che avevano iniziato le indagini anche ascoltando alcuni testimoni e visionando le telecamere di video sorveglianza che si trovano lungo il percorso attraversato dall'automobilista. Adesso le indagini si sono concluse e i militari hanno individuato la malvivente. Si tratta di una giovane rumena di 24 anni, con analoghi svariati precedenti alle spalle. Adesso denunciata all'autorità giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato.